Ho recuperato un film che mi incuriosiva particolarmente e che purtroppo non avevo visto in sale ed è Mixed by Harry di Sidney Sibili a targato Groenlandia, una casa di produzione che non sbaglia mai un colpo, un film che racconta una storia vera, tra l'altro ambientata tra gli anni 70 e gli inizi degli anni 90, quella dei fratelli Frattasio, una storia che Sidney Sibili riesce a raccontare sempre in maniera splendida, con una frizzantezza, con la capacità di far ridere, di far stare anche sulle spine, tra l'altro nonostante, ripeto, non ci sia il rischio di spoiler perché la storia è vera e si sa bene come le cose siano poi andate a finire, davvero, gran bel film, mi dispiace non averlo visto in sala, in questo momento è disponibile per esempio su Rakuten TV acquistandolo digitalmente ma a partire dal 22 di giugno arriverà su Netflix ed io vi consiglio davvero di non perdervelo, quindi gran bel film Mixed by Harry di Sidney Sibili ha targato nuovamente Groenlandia.